siamo ora all'interno dell'area verde ovvero area raccolta che vi permette di costituire delle categorie visive comunicative con il tasto in alto a destra posso andare a inserire tutte le categorie di riferimento personalizzate in questo caso inserirò la categoria giochi con il tasto gestisci immagine posso andare a scattare una foto nello specifico scegliere dalla galleria in questo caso scatterò la foto salverò poi tutti i miei dati con il tasto in alto a destra di spunta che andrà a inserire poi la mia nuova categoria sotto le categorie già preesistenti con un sistema facile di scorrimento potrò andare a spostare la categoria dove più necessito cliccando all'interno della categoria appena creata posso andare a creare delle sottocategorie dei sottolivelli il tasto più mi permette di andare ad aggiungerli creerò in questo caso la categoria specifica per i miei giochi animali gestisco l'immagine scattando la foto degli animali personalizzati che servono in questo caso alle mie necessità con la spunta in alto a destra poi andrò a salvare tutti i dati inseriti tutte le categorie create poi andranno a istituirsi di seguito una dietro l'altra con il tasto in alto a destra di ricerca potrò facilitare la mia ricerca nelle categorie inserendo delle stringhe di lettere o delle parole specifiche che vanno a selezionare le categorie di mio interesse in questo caso per esempio mezzi oppure andiamo a cercare la categoria bibite mano a mano che inserisco la stringa di lettere le categorie vengono selezionate in riferimento al mio motore di ricerca